Fonguang in cinese significa finice il mitico uccello simbolo del potere della prosperità e dell'immortalità capace di rinascere dalle proprie ceneri la leggenda narra che una coppia di questi favolosi uccelli in volo sulla città la videro così bella da non volerla lasciare Fonguang in cinese Questa cittadina racchiusa dalle montagne dell'Unan fino alla fine del XVII secolo fu un prospero centro commerciale e culturale sulle sponde del fiume Tuò lungo la via della Seta La Seta La residenza del ministro delle finanze agli inizi del Novecento rappresenta la tipica casa di pietra calcarea abbellita da eleganti elementi in legno. La residenza del ministro delle finanze agli iniziare a cura di pietra calcarea. La residenza del ministro delle finanze agli iniziare a cura di pietra calcarea abbellita da eleganti elementi in legno. Questo come sito inserito nella lista del patrimonio dell'umanità.